ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un altro funny glitch allora effetto nos chiamiamolo così per fare questo abbiamo bisogno di un amico che ha un elettro o che l'abbiamo noi però non dobbiamo guidare noi come in questo caso saliamo come passeggero mettiamo sul menu select per suicidarci e il nostro amico in pratica quando lui metterà il nos della moto noi ci suicideremo e come state vedendo ragazzi abbiamo un effetto nos anche a piedi questo diciamo effetto secondo me è solo un un effetto a livello grafico non credo che sia un nos o qualcosa del genere per per le auto però comunque magari quando saliamo sulle auto abbiamo questo effetto nos che si può vedere anche a piedi in bicicletta su qualunque veicolo noi prendiamo siamo è come se avessimo il nostro in pratica vedete che io sono a piedi ma comunque non è che corro di più perché c'ho il nostro no no assolutamente è un effetto è è un glitch divertente una cosetta una stronzatella simpatica da fare adesso vi faccio vedere anche con l'auto ma non cambia nulla insomma vado a prendere il starter qui e vi faccio vedere ma non è che che c'è un nos vero e proprio secondo me come ho già detto rimane solamente la visuale dell'effetto nos e basta però è è molto simpatico da da vedere tutto niente ragazzi per questo fanny glitch è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti